ciao oggi volevo parlarvi dei miei nuovi acquisti oggi sono andata alla chicco e ci sono un sacco di cose carine però poi alla fine ho preso poco perché un sacco di roba devo consumare un po di prodotti allora ho visto che ci sono gli ombretti della chicco in offerta tutti i colori tutti bellissimi a 3 euro e poi c'è anche l'ombretto cotto a 3 euro e 90 questo qui è bellissimo il colore è questo il numero è 29 adesso vi faccio vedere bellissimo molto molto glitterato allora questo a me è piaciuto molto questo colore perché non avevo questi colori qua secondo me si può mettere anche come illuminante viene proprio un effetto bellissimo poi ho preso il lip gloss extra volume dunque ne avevo già preso un altro un po di tempo faccia siccome sono trovata bene ne ho preso un altro allora il lip gloss è questo extra volume faccio vedere al numero 05 metto a fuoco ecco qui 05 ed è un colore sul rosso questo è il colore si vede adesso facciamo uno swatch con questa luce non so cosa si vede però è bellissimo io già altre volte che ho preso e li ho proprio finito che è la prima volta che finisco un lip gloss ecco qua troppo bello diciamo che questa luce non si vede un gran che però è molto lucido diciamo che dura tanto anche se poi va via il lucido rimane poi il colore anche dopo alcune ore io mi trovo bene molto bene molto bello piace molto poi e questi sono gli acquistini della Kiko ho detto che ho preso poco poi sono andata all'arrivo ruchet e ho preso finalmente un struccante per occhi perché io ho provato tanti struccanti occhi però ho provato quello della Sephora ho provato quello della L'Oreal però mi bruciano gli occhi e niente allora ho rinunciato per un po' a usarli e ho usato fino adesso l'olio di riso io mi strucco con l'olio di riso mi trovo bene strucca benissimo e non mi bruciano gli occhi però volevo uno struccante che è una cosa un po' più pratica e così e ho voluto provare questo speriamo che non bruci gli occhi e vediamo un po' come mi trovo poi passandoli nel negozio e facendo un giro siccome adesso vicino a Natale hanno tirato fuori un sacco di cose cesti, prodotti in offerta ho voluto provare il balsamo labbra anche questo è un ruchet alla malva si alla malva questo è un po' piccolino perché è 4 grammi proprio piccino piccino sembra grande ma è piccolo piccolo e io non ancora l'ho provato però è profumatissimo molto buono adesso vediamo proviamo un po' e anche il balsamo labbra non ho mai trovato un balsamo che veramente tenga le labbra ben idratate va bene ah non vi ho detto i prezzi allora lo struccante occhi dunque l'ho pagato adesso qui ho lo scontrino invece di 6,95 3,95 era in offerta e poi il balsamo labbra 2,50 euro questo era il suo prezzo non era scontato va bene questi erano i miei prodotti che ho comprato ciao ciao ciao